Adesso voglio vedere chi di voi vuole cominciare a fargli iniezione per primo E io! Ah, ah, ah! Un momento! Non cominciamo a gridare! E calma! La priorità a Napoleone Signorina, si tiri sulla gonna per cortesia Allora non hai capito un ghezzo, manco tu Ma come io credevo che eri più normale degli altri Non sei tu che devi fare la pundura a lei Sono io che devo fare la pundura a tutti voi Io ne ho abbastanza Ma che vi avevo detto? Questo è pazzo Ah, ma allora fino adesso ho parlato a vuoti o ho parlato? Non avete capito un accidente? Ah, ragazzi Con calma, rilassatevi Lungo sospiro di sollievo Avete visto che ha fatto la signorina? Che si è messa qui tranquillamente Si è alzata la gonna Non è che ci vuole poi in fondo Ah, 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 ah Gustavo, Gustavo Comando il professore Iniezione Pronti Ah, tieni Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah, ah Scala, vai Oh